I carabinieri pensavano di trovare il fuggitivo Claudio Guerrale. Sono vere, ho bella di tante, ma tu non puoi capire, Chiara. L'andrangheta si basa su un sistema ereditario. Mantengono il potere sul territorio tramite la famiglia. E ti ha chiamato mafia e noi chiamiamo sopravviventi. Lo faccio da parte, tu sei la mia voce.